Di nuovo in diretta qui da Massello, terza edizione della Marcia delle Valli Valdesi non sono più solo ma vicino a me c'è quello che io ho chiamato prima De Miurgo, Deus es Machina, padre fondatore addirittura della Marcia delle Valli Valdesi e con noi Omar Riccardi, ciao Omar ben ritrovato Ciao e grazie a voi di Radio Bequit che ci seguite Siamo di nuovo qui, siamo di nuovo qui dalla prima edizione e allora io vorrei partire subito così con un confronto la prima edizione è partita con mille forze come è normale che sia una prima edizione a oggi ci troviamo con 850 iscritti, una crescita di 300 dopo in soli due anni sembra che qualcosa abbia funzionato Assolutamente sì, come direbbe qualcuno il format è piaciuto gli scorsi anni è piaciuto ancora di più quest'anno noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio abbiamo fatto una prima edizione a Prarostino con più di 500 partecipanti l'anno scorso 624 a Pomaretto e quest'anno siamo arrivati a 850 l'ultima settimana abbiamo avuto circa 110 richieste a cui abbiamo dovuto dire purtroppo a malincuore no perché la nostra struttura organizzativa non avrebbe potuto sopportarle a noi interessava sicuramente dare una manifestazione all'altezza come era stata quella degli anni scorsi e la nostra macchina organizzativa poteva arrivare fino a quel numero lì Ecco io in apertura non mi sono sbilanciato nella presentazione della marcia dandogli significati particolari perché avevo paura di banalizzare sapevo che saresti arrivato tu e potevi spiegarmi molto meglio qual è lo spirito qual è l'idea qual è la lampadina che ti si è accesa il giorno in cui hai pensato a una marcia delle valli valdesi ma la lampadina che si è accesa è come amo sempre dire è la lampadina di una persona che non è nata qua nelle valli non conosceva il territorio ci è arrivato per come dire attività sportiva e se ne è innamorato a tal punto da acquistare casa trasferirsi prendere la residenza iniziare a organizzare manifestazioni sportive qui e penso che continuerò a farlo finché lo troverò divertente e gratificante l'idea è molto semplice è quella di promuovere questo territorio che secondo me e secondo noi perché io poi come amo sempre dire sono un po' il frontman come in un complesso musicale ma dietro di me c'è una squadra numerosa che lavora e l'idea è quella di promuovere il territorio far conoscere queste ricchezze che probabilmente chi ci abita forse non riesce a rendersene conto e questo è un peccato perché oggi abbiamo portato 850 persone rispetto al primo anno abbiamo avuto arrivi da Liguria, Toscana e Lombardia questo è importante quando si parla di promozione del territorio forse si parla anche proprio di aspetti di questo genere un gruppo che parte da un'altra regione per venire a fare la marcia delle valli valdesi e scoprire di fatto un territorio grazie proprio a questa iniziativa arrivare a Massello nell'alta Val Germanasca è un territorio non particolarmente conosciuto che noi con questa iniziativa abbiamo cercato di far conoscere e devo dire che i commenti di oggi sono eccezionali io vorrei raccontarvi un po' l'atmosfera che c'è qui intanto è una vera e propria festa, i gofri, il liscio, le bancarelle degli artigiani locali e poi c'è lui, c'è Omar che è la vera e propria star di questa giornata ho visto continuamente selfie richiesti con te non ho visto autografi ma non metto in dubbio che possa essere successo anche quello un grande riconoscimento forse immagino poi parleremo anche di cosa significa organizzare un evento come questo però penso che alla fine di un periodo poi diremo anche quanto dove hai passato buona parte del tuo tempo libero e non solo nel fare in modo che tutto andasse nel verso giusto poi momenti come questo di grande riconoscimento siano un po' la benzina che ti porta ad andare avanti assolutamente sì, ho usato il termine che a me piace usare molto spesso che è quello della benzina nel senso che viviamo tutti i giorni la nostra vita l'attività lavorativa, professionale e poi abbiamo il nostro tempo libero c'è chi decide di spenderlo in un certo modo investire in un certo modo e io da anni organizzo manifestazioni mi piace, mi diverto lo faccio ormai da quasi 15 anni penso che continuerò a farlo non so se per altri 15 anche di più non ci teniamo perché cominciamo ad avere una certa età però diciamo per i prossimi anni sicuramente le risposte che sono arrivate oggi come diceva Matteo sono veramente incoraggianti persone che vogliono farsi selfie con me neanche forse un cantante voglio dire va bene e questo gratifica molto questa è la benzina per dire ok l'anno prossimo ci saremo l'anno prossimo ci saranno delle novità molto interessante e adesso ci arriviamo non volciamo le tappe ma continuiamo a parlare di questa edizione allora abbiamo parlato molto genericamente di un percorso di circa 15 km quasi 16 possiamo descrivere un po' come avete pensato il percorso e che cosa è significato poi renderlo accessibile diciamo a un evento come quello di oggi allora il percorso ovviamente nasce sempre essendo la marcia o meglio la filosofia della marcia delle vali valdesi lo dice la parola stessa marcia quindi vuol dire che sono persone in cammino e non sono ferme quando uno marcia marcia parte da un punto arriva ad un'altra tappa poi riparte e l'idea fondante di questa iniziativa è sempre stato quello di dire ok ogni anno noi cambieremo luogo dove andare a fare la nostra iniziativa quindi la marcia rappresenta anche andare a conoscere un territorio nuovo io devo dire il valore di Mastello lo conoscevo poco avevamo già organizzato qua con l'amministrazione comunale una gara di corse in montagna su un versante non conoscevo l'altro quando abbiamo iniziato a pensare al percorso tutti subito hanno detto le cascate del PIS e io ho detto banalmente sì però le cascate del PIS quando parli del valore di Mastello tutti ti dicono quello invece magari proviamo proviamo a scoprire qualcosa proviamo a scoprire una parte nuova ed è quello che abbiamo fatto ci siamo messi intorno a un tavolo con una cartina abbiamo cominciato a ragionare e poi là sono venute fuori le difficoltà magari del sentiero che occorreva diciamo fare manutenzione questo era un po' troppo duro quello era un po' pericoloso e si è costruito il percorso tutti assieme con l'aiuto del sindaco con l'aiuto di alcuni consiglieri comunali con l'aiuto degli amici della Proloco di Mastello con l'aiuto di alcuni volontari che sono residenti qua anche solo nel periodo estivo questo mi è piaciuto molto perché ho trovato veramente un clima collaborativo ognuno ha messo un piccolo tassello le proprie conoscenze a disposizione del progetto per costruire il percorso devo dire che i commenti oggi alla fine ci hanno ripagato diciamo che abbiamo fatto bingo perché tutti sono rimasti veramente entusiastici del percorso e poi insomma tanti punti ristoro anche per mettersi in collegamento con le produzioni del territorio tutto un insieme che rimane quasi un racconto di un territorio c'è anche ecco precisiamo la marcia delle Valli Valdesi non è una gara agonistica ma c'è comunque una premiazione che è legata proprio al tema forse che sta più a cuore ovvero la partecipazione sì ovviamente è una camminata ludico-motoria non competitiva sul regolamento è scritto anche proprio a caratteri cubitali vietato correre e lo abbiamo messo fin dalla prima edizione perché non ci interessava fare quel tipo di manifestazione io stesso ne organizzo altre ma sono gare di corso in montagna questa era una camminata quindi abbiamo deciso di premiare fare delle premiazioni un po' atipiche quindi abbiamo deciso di premiare il primo iscritto online sulla nostra piattaforma dove raccogliamo le iscrizioni e poi di premiare il gruppo più numeroso questa manifestazione è cresciuta negli anni perché siamo riusciti a coinvolgere le associazioni che nel frattempo anche loro sono cresciute diciamo dopo il covid è aumentato l'interesse per le attività outdoor per le camminate per il feetwalking il nordic walking e andremo anche a conoscere una parte magari ecco proprio con il gruppo più numeroso che mi pare siano 61 persone sono arrivate tutte insieme io forse nelle mie conoscenze se riuscissi a metterne insieme 3 o 4 farei già i salti di gioia allora prima di chiudere Omar stavi aprendo una porta sul futuro che io ho tenuto so chiusa un attimo ora è arrivato il momento di aprire aprire al 2025 che per uno come te vuol dire avere nuove idee novità è una grossa novità direi sì diciamo che è una novità che così la lampadina come hai detto tu si è accesa l'altra settimana e abbiamo detto ma visto il grande successo visto comunque il riconoscimento da parte delle persone e oggi ancora di più perché non raddoppiare e quindi riconfermiamo la manifestazione sempre nel mese di giugno l'anno prossimo ma ne metteremo una in calendario verso la fine di agosto e sarà una manifestazione diciamo by night con una partenza intorno al chiaro di luna al chiaro di luna con partenza intorno alle 18.30 ovviamente svolgendosi svolgendosi di sera sarà molto più tranquilla con un percorso decisamente meno impegnativo in un luogo sicuramente suggestivo che non svelo ma che abbiamo già individuato sarà veramente uno spettacolo ti stiamo alle calcagne allora appena sapremo insomma queste ulteriori novità nel frattempo noi ti ringraziamo la giornata qui continua appunto sono ancora tanti i partecipanti che sono arrivati da poco che ancora ho visto ancora piatti di pasta arrivare qui dalla sala polivalente e poi ci sarà appunto tra un po' la premiazione che ricordiamo rimette diciamo di nuovo in contatto con i produttori locali perché si tratterà di una forma di Toma di Toma assolutamente sì vi ringrazio veramente di cuore io a nome di tutti diciamo le associazioni che abbiamo che organizzano questa manifestazione perché voi siete stati siete stati al nostro fianco fin dalla prima edizione e speriamo di esserci allora anche al chiaro di luna ci prendiamo questo impegno qui in diretta grazie Omar grazie a voi linea alla regia